Benvenuti ad una nuova puntata di Che Impresa, il programma che vuole approfondire e mettere in risalto il lato segreto e il dietro le quinte di un percorso. Percorsi di vita e professionali importanti, che non perdono però il contatto con la parte umana. Imprenditori, liberi professionisti, tutti coloro che hanno plasmato la propria strada fra salite e discese, raggiungendo poi però il successo. Oggi parleremo di tecnologie green, e non solo, ovviamente, dell'importanza di saper coniugare qualità, efficienza ed innovazione. Ne parliamo con Simone Lattini, fondatore di CLH Impianti, che è qui con noi stasera Che Impresa. Ciao! Buonasera, buonasera e grazie. Comfortable living homes, giusto? Esatto. Perfetto, quindi ok, meraviglioso, poi abbiamo anche l'internazionale qui. Ascoltami, che cosa sognavi da piccolino che fai la nostra domanda d'inizio? Ma da piccolo, un pochettino come tutti quanti, sicuramente era quella di seguire le orme dei propri genitori. I nostri genitori sono stati un modello per tutti noi. Io vedevo mio padre, che appunto era un semplice operaio, si occupava della parte impiantistica, impianti idraulici, termici, e per me chiaramente l'imitazione di un genitore era qualche cosa da portare avanti. Vuol dire che ha fatto un buon lavoro di papà, perché c'è anche chi dice, no, per carità, io voglio essere il contrario, no? No, no, no. L'aspetto lavorativo, insomma, è stato un grande professionista, stimato nell'ambito, quindi ringraziando Dio ho avuto un buon maestro. Ecco, questo è molto bello, sarà sicuramente, ecco, l'orgoglio lo sentiamo anche noi. Ascoltami, quindi l'idea come nasce poi per proseguire la staffetta, diciamo così? Ok, l'idea nasce dal fatto che sempre più spesso in questo ambiente è difficile far comprendere alcuni processi alle persone, soprattutto adesso che appunto parliamo di efficientamento energetico, è difficile far capire alle persone alcuni sistemi, alcuni funzionamenti, ok, di alcuni impianti. Quindi ho notato che al di là dell'installazione serviva un accompagnamento proprio alle persone per cercare di focalizzare di più l'importanza di questi impianti tecnologici. L'innovazione, lo dice la parola stessa, ha bisogno di un accompagno. Esatto, esatto, esattamente, sì. Ok, allora, di che cosa ti occupi nello specifico così appunto accompagniamo i nostri spettatori in ciò che fai? Ok, diciamo che molto semplicemente, in maniera molto semplice, io mi occupo appunto tutta la parte impiantistica, quindi impianti elettrici, fotovoltaici, pompe di calore, impianti di riscaldamento, caldaie, impianti idraulici, quindi di varia natura, anche semplicemente per l'aspetto più residenziale, come bagni, cucine, e parte anche un pochettino più grande, insomma, bed and breakfast, alberghi, tutto quello che riguarda l'impiantistica, anche la parte elettrica e quant'altro. Chiaramente nel tempo gli impianti e la tecnologia che riguarda gli impianti hanno subito una grossa variazione, non solo come tecnologia proprio nell'installazione, ma proprio come logica di funzionamento. Ecco perché appunto, parlando ad esempio delle pompe di calore, tante persone sono ancora molto confuse, sia sul da farsi nel montarle, non montarle, come montarle, dove montarle. Arrivare il mondo della domotica e tutto il resto. Esatto, esatto. Diciamo che le generazioni prossime sicuramente capiranno di più la logica di queste situazioni, ma manca un pochettino l'anello che è appunto un passato che valorizza questo futuro, no? Nel momento in cui una persona come me, di mezza età, quindi viene da impianti tradizionali, dove appunto la logica del risparmio energetico era molto ridotta, capisce il valore di alcuni impianti, mentre i ragazzi di oggi, che sono soprattutto molto capaci con le tecnologie, quindi ad approcciarsi a queste tecnologie in ambito di funzionamento, di fruizione, quindi sono sicuramente più facili a usare queste tecnologie. Sono più portati. Sono più portati, però ecco, è importante che ci sia quest'anello tra il passato e il futuro, perché senza il passato non si riesce a dare valore, il giusto valore, la giusta comprensione al futuro, che loro si trovano... E questo posso dirlo vale per ogni cosa, assolutamente. Ragion di più appunto perché il passato impari dall'errore, impari l'importanza di certe cose che non devono essere perdute nella tecnologia, perché la tecnologia, tu mi insegni, ci fa perdere tante cose anche. Esatto, esatto, anche sì. Ci ha dato tanto e ci ha dato tanto aspetti e ci ha fatto... E bisogna riuscire appunto a stare in un giusto equilibrio. L'equilibrio in realtà è la chiave di tutte le scienze. Assolutamente sì. Esatto. Quindi questo nome, Comfortable Living Homes, ovvero, insomma, la casa confortevole da vivere, scusate ovviamente, anch'io, vuoi dici di più? Sì, appunto il progetto nasce proprio in questi termini. Cioè ho visto che la mia esperienza mi ha insegnato che oltre ad avere una casa molto molto efficiente, spesso si pecca sul comfort. Quindi è appunto importante mantenere in equilibrio non solo l'efficienza energetica, quindi i sistemi che vanno a far risparmiare la persona, ma gli sistemi devono essere anche di facile comprensione, di facile utilizzo. E quindi l'idea, appunto il progetto, è questo di dare un servizio a tutto tondo al cliente, a 360 gradi, di modo che il cliente abbia non solo un sistema efficiente, ma anche facile da poter sfruttare. Ecco. Diciamo che le tecnologie, adesso per quanto riguarda le generazioni a venire, le tecnologie per i ragazzi sono di più facile fruizione. Però appunto serve sicuramente un trascorso, cioè le persone devono anche capire l'importanza di questi impianti. Quindi ecco, coniugare per dare il massimo al cliente il comfort, ma anche l'efficienza. Però quando questi due fattori, questi due servizi che si offre al cliente sono sbilanciati, diciamo che la resa non è ottimale. Ecco, quindi il desiderio, la prospettiva, il desiderio è quello di poter dare appunto un servizio totale al cliente con il comfort, ecco, oltre che con l'efficienza. Quindi parlando di domotica, di comfort, vogliamo ecco fare qualche esempio su come lavoriamo? Sì, diciamo ad esempio, per farla diciamo anche breve, no? Spesso le persone magari installano ad esempio condizionatori o pompe di calore, ma l'utilizzo per esempio deve essere ritagliato sul cliente. Faccio un esempio banale, magari spesso monto dei climatizzatori, ma magari li monto in alcuni locali che sono adibiti a bed and breakfast, a case vacanze, no? E hanno bisogno per esempio anche di una rete wifi, cioè il cliente deve poter controllare questi condizionatori anche da remoto, proprio per controllare anche nel momento in cui magari fanno, ci sono delle persone che vanno via o fanno un check out, magari lasciano le condizioni delle eccesi, scusate. Ma anche arrivare in una casa e trovarla già fresca? Esatto, esatto. Insomma, entri in un forno e dicevo che si è accesa prima. Esatto, esatto, anche questo, anche questo. Diciamo, questo è uno degli esempi, ma un altro esempio che posso fare ad esempio con l'efficientamento energetico con il 110, con tutti questi eco bonus che ci sono stati, la gente ha fatto la corsa a prendere, a provvigionarsi questi tipi di tecnologie, ma spesso non hanno centrato l'utilizzo buono per loro. Faccio un esempio banale. Molta gente ha installato le pompe di calore con i pavimenti radianti, il pavimento radianti è un sistema di riscaldamento e raffreddamento con dei tubi che vengono posati sotto il pavimento. Alcune persone hanno fatto questo tipo di scelta, magari delle case seconde, le seconde case. Allora, qual è il tema? La seconda casa, se io la seconda casa non la vivo, ma ci vado tre ore nel weekend, quattro ore nel weekend, questi non sono impianti che garantiscono la massima efficienza, perché hanno bisogno di tempo e hanno bisogno appunto di alcune... Di come un rodaggio. Esatto, cioè per entrare a regime un impianto con pompa di calore, sistemi di accumulo, pavimento radiante, servono alcune ore. Allora, se io ho una seconda casa dove ho speso, faccio un esempio, tot mila euro per efficientarla, è normale che se poi vado lì e sto quattro ore al weekend non ho l'efficienza di cui... e soprattutto il comfort, no? E' bella anche l'onestà con cui tu lo dici, perché magari chi pur di fare il lavoro non ti dà il consiglio... Esatto, purtroppo spesso è successo questo e questo io ne faccio un fiore all'occhiello della mia attività... Beh, ma te l'ho detto io, quindi fiore te l'ho messo io direttamente, non te lo stai dicendo da solo... Esatto, sì, sì, però è proprio te, perché... Ecco, il tema è proprio questo, spesso io faccio sopralluoghi chiaramente gratuiti e spesso mi sono trovato a consigliare alcuni clienti di non fare certi tipi di efficientamento, perché era inutile. Sono andato in un quartiere molto bene di Roma, dove ad esempio c'era un avvocato che mi ha fatto vedere le bollette dell'elettricità e la bolletta del gas e lui voleva efficientare la sua villa con dei pannelli fotovoltaici, ma io ho visto che l'utilizzo che lui faceva di queste risorse energetiche come elettricità e gas, diciamo che lui avrebbe ammortato la spesa con troppi anni, non era un efficientamento buono, a meno che lui non aveva la mira di vendere una casa, quindi di riqualificarla per una vendita. Sì, perché poi la famosa casa green credo che ha comunque un movimento diverso. Esatto, esatto, diciamo che per l'età di quella di questo signore che mi ha chiamato, anche un po' gli errori che aveva nella mente, perché lui pensava che appunto efficientando la casa con questi sistemi avrebbe abbattuto del 100% la spesa. Quindi c'è anche una cattiva informazione forse alla fase. Molto, molto, una cattiva informazione e diciamo che da una parte tutti i bonus che ci sono stati hanno avvicinato le persone a queste tecnologie, dall'altra parte le hanno allontanate, perché c'è stata una, come posso dire, una vendita smodata di questi prodotti, un approvvigionamento smodato. Esatto, un approvvigionamento smodato senza capire effettivamente quello che io poi mi andavo a mettere dentro casa. E questo è stato un grosso problema, un grosso problema. però mi piace vedere la tua passione con cui combatti, se ti immagino, alcuna volta anche i mulini a vento, perché ti giuro che l'ambiente comunque non è dei più semplici, no? Non è semplice, no? Io penso la competizione, le cose, ci sarà un universo, no? Sì, sì, tanta, a volte ci sono professionisti sicuramente stimati e a volte invece ci sono persone, insomma, che si improvvisano un pochettino. Però tu hai un team di cui sei orgoglioso. Sì, 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 noi siamo molto... Vogliamo spendere una parola per loro. Sì, 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 allora noi tra, diciamo, ragazzi che lavorano direttamente interni a noi, quindi assunti e professionisti con cui collaboriamo, siamo circa un team di una quindicina di persone e, insomma, realizziamo belle cose. Chiaramente offriamo molte soluzioni ai nostri clienti. Quindi, insomma, siamo molto contenti. Dall'ideazione alla soluzione finale. Esatto. Quindi, ecco, io vengo da te e in qualche maniera tu mi fai un progetto. Esatto, esattamente. Un progetto su tutti i fronti, quindi sulla parte impiantistica, sulla parte edile che è appunto inerente alla parte impiantistica, perché se io vengo e devo, ad esempio, sostituire dei radiatori con magari dei fan coil o altri sistemi per, riaffrescare o riscaldare la casa, chiaramente se c'è un impatto murario, noi siamo in grado anche di offrire un servizio per quanto riguarda la muratura, la pittura e tutto quanto quello che riguarda appunto il comfort della casa. Quindi è un team ricco di professionisti, ognuno con il suo compito. Tutti i professionisti affermati, gente che lavora nel settore da tantissimi anni. Non è facile, sono molto contento delle persone con cui collaboro, perché comunque capiscono esattamente il problema, sanno capire le esigenze del cliente e sanno capire anche l'impatto psicologico del cliente, perché spesse volte... Toccare la casa e toccare l'intimo di una persona. Esatto, questa non è una banalità, spesse volte vediamo il panico nei volti delle persone a cui, diciamo, andiamo poi a fare il lavoro, no? Ma davvero state spostando quel muro? Esatto, quindi siamo molto attenti, siamo molto attenti, cerchiamo di collaborare. Anche lo psicologo nel termine. No, però potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un'idea, sicuramente. I psicologi che ci ascoltano se vogliono mandare il curriculum. Sicuramente, sicuramente è un'idea. Ecco, benissimo, senti, i progetti futuri, che cosa bolle in pentola? Allora, io sono molto molto ambizioso purtroppo e il desiderio mio... Perché purtroppo? Perché tante volte... È un'ambizione sana, dai, su via, il ragazzo è modesto, vai, vai. Diciamo che, allora, l'idea mia è, da qui a qualche tempo, cercare di aprire uno showroom appunto per l'impiantistica nel cuore di uno dei più grandi centri commerciali di Roma. Adesso non faccio il nome, ma per un discorso di pubblicità, però vorrei... Vabbè, poi i sogni, come dire, se si raccontano troppo, magari... Esatto, esatto. Allora, ci basta, tanto io ti invito a tornare quando vuoi. Certo, volentieri, grazie mille, grazie. Quindi ti vorrò chiedere altre cose, aneddoti, eccetera e quant'altro. Intanto io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie. Grazie mille. Veramente interessante e ringrazio voi, come sempre, per averci seguito a Che Impresa. Vuoi dire una parolina in più? Buonasera a tutti, chiamateci e vi espereremo una soluzione su misura per tutti quanti. Buonasera. Alla prossima e buon proseguimento di sera. Alla prossima e buon proseguimento di sera.